La pagina delle segnalazioni di Rossini TV ci troviamo oggi nel quartiere Pentagono Celletta per denunciare una situazione che ci è stata resa nota dai residenti appunto del quartiere. Una problematica presente sul posto ormai da diversi anni e per la quale non sono ancora arrivati gli interventi richiesti. Alcuni residenti delle abitazioni situate in via Arianni hanno infatti segnalato la presenza di un profondo pozzo nel tratto di area verde compresa tra i condomini e il camminamento pedonale di via lungogenica. Pozzo che in diverse occasioni per lo più a seguito di interventi di manutenzione del verde non viene correttamente richiuso. Diverse quindi le situazioni spiacevoli o di rischio che potrebbero verificarsi anche a causa della mancanza di protezioni o indicazioni che segnalino lo scavo. Sono 26 anni che noi abitiamo qui e sono 26 anni che c'è questa problematica. Qui l'impresa quando ha finito i lavori ha lasciato una pietra sopra un pozzo che è profondissimo e ogni volta che adesso vengono, non sempre però molto spesso, quando vengono a tagliare l'erba col trattore, con la fresa ci battono e si apre. Abbiamo visto come è pericoloso. Io fino adesso ho sempre cercato di rimetterlo a posto però perché aspettavo sempre che il comune venisse qui a livellare il terreno e a mettere in sicurezza questa pietra perché è pericolosa. Qui ci passano, è pubblico, suolo pubblico, ci passano cani, gente con i cani, bambini, i ragazzetti che vengono un po' darsi anche con i giochi, non si sa mai. C'è la fermata del tram, molti attraversano qui, scendono e poi per andare nelle varie vittazioni passano anche qui. È pericoloso. Lì adesso non è molto spostato però molte volte è anche più aperto e quindi la pericolosità aumenta. Qui dovrebbero mettere a posto il verde. Io aspettavo appunto che un giorno venissero a mettere a posto il verde e quindi mettessero in sicurezza quello lì. Ma non si vede nessuno. Sono 26 anni che siamo qui e sono 26 anni che questo è così. Dopo qui ci vuole una chiusura stabile, bella, più sicura. Perché, hai capito, fino adesso mi sono adoperato io ma perché mi sento responsabile sempre con la leva. Adesso l'età avanza, cominciano a una certa età, il mal di schiena. Si può anche affermare, che venissero loro, qualcuno e mettesse a posto. Altra situazione che i residenti hanno voluto segnalare riguarda la collocazione e la dimensione degli arbusti presenti nell'area verde, il cui eventuale danneggiamento caduta, che si potrebbe verificare per esempio a causa del maltempo, potrebbe rappresentare una problematica anche per la circolazione di via lungogenica. E per me sono pericolose perché non meno di 20 giorni fa nella rotatoria, ne è caduta una, fortunatamente dalla parte del parco interna. Io mi chiedo, se cacca dalla parte esterna, cosa succede? Quest'inverno c'era il coprifuoco, di notte c'era stata la tempesta, vento, pioggia, è cascata sulla strada. E quelli che vengono a raccogliere la pianta, perché poi il giorno dopo è venuto quelli di Marche Multiservizi, la squadra, l'han tagliata e l'han portata via. Io dico, la responsabilità di un capo squadrico, quando rientri alla base, vuoi dire, guardi che là in via lungogenica, quelle piante, ogni tanto ne casca una, sarà meglio magari dargli una portata, penso che sia un pericolo anche per la strada.